Si va a gara 3 tra Saugella, Team Monza e Unity Work, Busto Arsizio. Le Brianzole, sconfitte in gara 1, rispondono superando 3 a 1 la formazione di Mencarelli con una gara in crescendo in cui Ortman, MVP da 24 punti, finisce con lo spadroneggiare. Per Busto una strepitosa Mainers nei primi due set, chiusi a quota 19 prima di un comprensibile calo. Non basta perché Saugella riesce ad aggirare il muro ospite, aggredendo sempre in battuta e difendendo lucidamente ogni zona del campo. Primo set in equilibrio, poi primo strappo per Monza che però si perde sul 22 a 16 ma si ritrova in tempo per il 28 a 26. Nel secondo reazione ospite con Mainers imprendibile e Busto che vola 8 a 16. Entra Bausch e Monza rimonta e sul 20 a 23 Ancoc porta il set ai vantaggi in battuta prima della resa 23 a 25. Nel terzo Saugella allunga 19 a 13 con Ortman, risposta a Airbots che ricuce, ma ai vantaggi la tedesca è ancora decisiva per il 25 a 23. Quarta frazione simile alla precedente con Monza avanti nella fase centrale e Ortman sempre più padrona. Busto reagisce con l'energia di Airbots ma non basta. Nel finale due attacchi morati di Mainers condannano 25 a 20 Busto che in due giorni dovrà ritrovare energie fisiche e mentali per giocarsi la bella alla Candi Arena.